Per tutti ragazzi si bentornati in questo nuovo video ragazzi Io, cioè raga, io sono sconvolto Cioè, Cristian Crucifer... Vabbè, Cristian Crucifer 10 L'ho ringraziato moltissimo Che... Ema ha dato il cucino Ringraziato moltissimo Perché raga, cioè, ha fatto pure un video per me E... Aspetta... Allora, ha fatto un video per me e io ti ringrazio Con tutto il mio cuore Eccolo tutto, come lo cerco... Eccolo qua Se vuoi ragazzi, anche voi, seguitelo Chama Cristian Crucifer 10 E allora qua Qua c'è... Allora, lui ha fatto un video per me Che è imbattibile E... E lui ha detto Scrive... Astic... Che dice imbattibile E io l'ho scritto E lui mi ha messo il cuore E lui ha detto Squad� relevo Ecco, qua qua il mio cuore Non ho capito quello che c'è Iscritto Ma va bene Vabbè Ok Ecco, adesso raga Facciamo tutto questo video Che non c'è tanta memoria Adesso Adesso ha fatto questo video Per me Il team grazie Senza l'h E là ci saranno live di play Solo a fortnite E però ragazzi Questo è il primo canale Che farò Con le Massi ma con il più È bellissimo Inoltre ragazzi Faremo un video Faremo un balcone Parleremo un po' Giocheremo un po' Iscrivetevi Tutto quanto al canale Ovviamente Scrivete Nei commenti Cioè Iscrivetevi Nei commenti Hashtag Hashtag Christian Fiore Tutto Vabbè ovviamente Hashtag Iscrivetevi Io metterò Lo cuore E quindi Adesso Sto canale Un video Per ringraziamento A Christian Criu Fuciliere 10 E io saluto Te ovviamente E noi ci Becchiamo Alla prossima Alla prossima